Covid-19, in Sicilia 350 nuovi contagi, 17 decessi, 1.081 guariti, a Siracusa 32 casi. Nel nuovo bollottino in Sicilia si evincono un aumento di ricoveri nelle terapie intensive, mentre sono 359 positivi su 19.201 tamponi processati, con un'incidenza quasi dell'1,8% in diminuzione rispetto a ieri, che era dell'1,9%. La rete dei contagi tra le province registra Catania, 84, Messina, 74, Palermo, 53, Eracusa, 40, Siracusa, 32, Agrigente, 31, Trapani, 16, Caltanissetta, 12, Enna, 8. Nell'isola sono verificati 17 decessi e portano il totale a 5.737. Il numero degli attuali positivi è di 13.267, con una diminuzione di 748 casi. I guariti oggi sono 1.081 nelle strutture ospedaliere, i ricoveranti sono 766, 22 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 104, 5 in più rispetto a ieri. A Messina alvia vaccinazione alla Parascifina, lab più grande della Sicilia, con ampi spazi per accettazione, anamnesi e somministrazione. Siamo molto soddisfatti del risultato raggiunto. Oggi si avviano le vaccinazioni anche alla Parascifina, una struttura molto ampia di oltre 2500 m2, grati al coperto, lab più grande della Sicilia, che permetterà, grazie a importanti spazi, vaccinazione in sicurezza rispettando le disposizioni anti-Covid e percorsi dedicati per le inoculazioni. Insieme ad altri hub che abbiamo avviato in questi giorni, Patti, Capodorlando, Milazzo, Taormina e domani Brolo, darà un notevole contributo alla campagna vaccinale in provincia di Messina, permettendoci di superare tranquillamente il target stabilito dal generale Figliuolo di 6.300 inoculazioni giornaliere, che già negli scorsi giorni più volte abbiamo raggiunto e superato, arrivando a 7.000 dosi al giorno. A dirle il commissario per l'emergenza Covid-19 di Messina, Alberto Firenze, durante l'inaugurazione del Palla Recifina a Messina, che diventa così il terzo grande hub della città dello stretto, dopo quello della fiera e dell'ospedale militare. Erano presenti, tra gli altri, il direttore generale facendo funzione dell'ASP di Messina, Bernardo Alagna, il sindaco di Messina, Cateno De Luca, l'assessore comunale all'emergenza Covid-19, Daphne Musolino e il dirigente regionale della protezione civile, Bruno Manfrè. Nel corso della cerimonia, Don Sergio Siracusano, parroco della parrocchia della Sacra Famiglia del Villaggio, CEP, ha impartito la benedizione al nuovo hub vaccinale.